In primo luogo è indispensabile che il Governo ci fornisca la sua agenda di medio periodo. In secondo luogo dobbiamo aprire una fase successiva che riguarda la crescita ed è in questa fase anche che può essere collocato tutto il discorso sull'articolo 18. In terzo luogo abbiamo intenzione di definire delle nostre proposte per quello che riguardano le liberalizzazioni e le privatizzazioni perché finora ci sembra che la tematica affrontata è stata abbastanza sfittica.